Merà brava gente! Eccoci ritrovati su Teikoku Destron per un altro degli unboxing devastanti e oggi vediamo... Già... Dai-Cro-N... No, Wardaros Soldier Type! Questo qua si tratta della versione normale, quello che si trova tranquillamente su Amazon Japan e nei vari posti, c'è anche la versione limited presso l'attaccaratomy mall ma io non ho tanti soldi per cui mi sono accontentato della versione normale prima di cominciare la recensione oggi faccio un semplice unboxing di quello che troverete dentro per me gli unboxing possono dare fastidio a molta gente ma io sono convinto che guardare innanzitutto quello che trovate nella scatola è importante perché comprare queste robe qua che arrivano anche dall'estero eccetera per chi abita in Italia o comunque fuori dal Giappone e sapere quello che trovate nelle scatole secondo me comunque può essere una guida poi scusate se il video è molto amatoriale comunque torniamo alla nostra scatola vediamo le dimensioni ed è una scatola molto molto piccola e compatta ottimo per chi ha problemi di spazio come sottoscritto se lo vogliamo confrontare con il Transformers Siege questi due Target Master ovviamente sono molto piccoli vedete che le dimensioni della scatola così per cui abbiamo una scatola molto molto compatta e abbiamo qua in copertina il nostro Soldier Type in versione robot in versione bestia che mi ricorda Hangur quello dei Terracons e poi la versione robot mode però con queste due un ghiacce mega artigli che di solito ha qua sulle spalle poi vediamo qua di fianco abbiamo la versione bestia poi qua dietro abbiamo tutte queste sempre super eleganti scatole della serie diaclone come vediamo qua ad esempio Giganta qua dietro con i tre Soldier Type e sarebbe ottimo avere un Giganta e tre Soldier Type magari uno limite e due normali giusto per solamente con queste ti partono 800 euro se uno riesce perché poi spedizione magari dogana eccetera ciao e poi abbiamo il nostro Giganto con le due mazze qua messe qua sulla schiena e le varie versioni con anche queste un ghiaccio che possono essere trasformati in mega shuriken enorme poi si può fare dei vari upgrade con i vari pezzi dei Wardalos venduti fino adesso che erano un po' delle ciofeche della verità il problema è che quelli venduti fino adesso erano di un colore grigio più chiaro questo è un grigio che dà quasi sul nero per cui anche però metterli assieme purtroppo la combinazione di colori ha un po' un pugno nell'occhio poi vediamo che si possono combinare con i vari pezzi del Giganta per fare tipo un'astronave la parte sotto la parte sopra soldier e mettere come si chiama le due braccia del Giganta qua così anche anche soldier type oppure trasformare soldier type in delle specie di artigli enormi da mettere come UDAL Giganta ok adesso apriamo la scatola che ho già aperto per fare la recensione in giapponese e qua nella scatola cosa troviamo per prima cosa già troviamo il nostro fukukuro presento che sta a fare qua per cercare di avere qualche un bonus dalla Takara Tomi se ti va bene ovviamente per chi non abita in Giappone sarà difficile usarlo anche per chi abita in Giappone comunque non possiamo perdere ok vediamo poi abbiamo il libretto di istruzioni io comunque sono sempre una figata che c'è il UARDA non ci sono i dianauti ma ci sono i di UARDA GUNDA e questo bel libretto delle istruzioni bello bello scritto fitto che per chi come me è passato di 40 anni da un bel po' di tempo e le cose piccole fa fatica a vederli c'è veramente da fare harakiri ho detto alla giapponesa da seppuku a vedere un affare simile perché ti vanno insieme agli occhi va bene e poi abbiamo il nostro artwork che è una grandissima figata una figata devastante mamma veramente una libidine devastante devastante ma vado via di testa porca miseria è troppo bello ecco cosa c'è la spiegazione in tutti i modi possibili immaginabili questo sembra provvidence gundam messo così è ok dai adesso vediamo cosa troviamo dentro di concreto abbiamo qua questo un unico blister così adesso lo apriamo speriamo che non parta tutto come al solito speriamo proprio di no speriamo decisamente di no no per fortuna dai ci è andato anche bene e qua nel nostro blister cos'è che troviamo troviamo il nostro soldier type praticamente messo per essere subito unito in versione robot non bestia per cui abbiamo qua ad esempio le gambe che qua i piedi delle gambe dovrebbero diventare la testa dei due draghi è proprio come hangor come concetto anche e come colori è veramente una figata abbiamo questo nero grigio adesso non so come definirlo con queste parti dorate e queste parti qua rosse qua dietro è una figata pazzesca altro che i colori dei primi guardaroido che sono usciti che hanno veramente delle schifezze anche come colorazione mi pentro averli presi adesso a pensarci ci ho buttato via qualcosa come 200 euro porca miseria e vabbè andando avanti vediamo che abbiamo qua le nostre tutte le nostre unghiacci i nostri artigli e poi questi qua per mettere in modalità shuriken eccetera eccetera poi abbiamo questo che diventerà probabilmente la coda sarà molto a me in maniera bestia non so non riesco a intuire cosa possa essere abbiamo il nostro cockpit l'abitacolo per il nostro soldato guarda e poi questi che a me piace sono un casino le mazze ferrate che erano le armi che preferivo nei cartoni di materie robot proprio non quelle cose fini come le spade no queste qua che veramente massacrano il nemico a botte ottimo ottimo ottime le armi che mi piacciono di più erano sempre le mazze ferrate le catene poi abbiamo la nostra parte sopra del corpo anche qua con queste perfetto proprio in sintonia con giganta tutte queste parti qua blu dorate ma che figate poi è bello che proprio questo anche come posso dire non ha i ratchet però i joint sono veramente duri il giusto è proprio modulato benissimo come oggetto secondo me e poi abbiamo la nostra testa che è del software di retagio che è messo su queste specie di cilindro sono rimasto un po' stupito quanto l'ho vista ma è strutturato in questa maniera che a vedere solamente la testa i nostalgici come me gli viene subito in mente come si chiama sono dimenticato o bestia non guardaroido era anche il mio daclone preferito vabbè lasciate perdere ragazzi quando si arriva presso veramente la metà di 40 anni ormai si comincia a venire fuori la sclerosi è il nostro guardaroido guardo guardarus scusate è comunque veramente ben fatto è con questo cilindro che si metterà qua dentro e anche il nostro pilota quello qua allora si tratta in giappone su amazon prime lo si trova questo su amazon nel japan lo si trova quanto è che l'ho visto la scorsa volta 11.000 yen 11.500 cioè il prezzo non si è alzato neanche abbassato però comunque è stabile non è come chi giganta che dopo un po' qualche mese è passato si è impennata le stelle questo è ancora stabile si effettivamente quasi un 100 euro 100 euro qualcosa per un affare simile c'è chi può dire che è troppo caro ma comunque la qualità vista così sembra veramente ottima adesso poi me lo manterò con calma farò un altro video e lo metterò su internet se qualcuno è interessato ci vediamo ai miei prossimi video e allora brava gente grazie per l'ascolto e ci vediamo ciao ciao